stavo passeggiando sul boulevard insieme con roger quando un venditore qualunque gridò rivolto verso di noi il sistema per sbarazzarvi di vostra suocera comprate mi fermai di colpo e disse all'amico ecco un grido che mi ricorda una domanda che volevo farti da tempo che cos'è quel sistema di roger di cui parla sempre tua moglie scherza su ciò in modo così strano e pieno di sottintesi che dovrebbe trattarsi secondo me di una pozione eccitante di cui tu avresti il segreto ogni qualvolta le viene eccitato un giovanotto stanco esausto anelante lei si volge verso di te e dice ridendo bisognerebbe indicargli il sistema di roger e il più strano in questa faccenda è che tu arrossisci ogni volta che te lo dice roger rispose il motivo c'è ma se mia moglie immaginasse ciò di cui parla tacerebbe te lo assicuro ti confiderò questa storia a te solo tu sai che ho sposato una vedova della quale ero innamorato la moglie ha sempre avuto un linguaggio un po' libero e prima di farne alla mia compagna legittima avevamo spesso insieme di quelle conversazioni un po' piccanti permesse con le vedove che hanno conservato il gusto del pepe nella bocca le piacevano molto le storielle allegre gli innocenti aneddoti sbarazzini i peccati di linguaggio non sono gravi in certi casi lei è ardita io sono un po' timido e si divertiva spesso prima del nostro matrimonio a imbarazzarmi con domande o scherzi ai quali non mi era facile rispondere nel resto fu forse quell'arditezza che mi fece interessare di lei quanto all'essere innamorato lo ero da capo a piedi corpo e anima e lei lo sapeva quella volpe fu deciso che non avremmo fatto alcuna cerimonia alcun viaggio dopo la benedizione in chiesa avremmo offerto un pranzo ai nostri testimoni poi avremmo fatto una passeggiata soli in carrozza indi saremmo andati a cenare in casa mia in cui Helder salutati i testimoni salimmo in vettura e disse al vetturino di condurci al bosco di Boulogne era la fine di giugno la giornata era magnifica appena soli si mise a ridere mio caro Roger disse è il momento di essere galante vediamo come te la caverai apostrofato in quel modo mi trovai immediatamente a disagio le baciai la mano e le ripetei ti amo e arrischiai due volte a baciarle la nuca ma i passanti mi davano soggezione lei ripeteva sempre con un fare provocante e strano e dopo e dopo quel e dopo mi snervava mi mortificava non era in una vettura al bosco di Boulogne in pieno giorno che si poteva tu capisci lei vedeva il mio imbarazzo e si divertiva ogni tanto ripeteva ho paura di essere capitata male mi preoccupi ed io pure cominciavo ad averne di preoccupazioni su me stesso quando mi intimidiscono non sono più capace di nulla a cena mia moglie fu carina e per diventare ardito allontanai il domestico che mi infastidiva oh si comportavamo come due persone ben educate ma tu sai come gli innamorati siano sciocchi bevevamo nello stesso bicchiere mangiavamo nello stesso piatto con la stessa forchetta ci divertivamo a sgletolare cialde alle due estremità perché le nostre labbra potessero incontrarsi nel mezzo lei mi disse vorrei un po di champagne avevo dimenticato la bottiglia nella scansia delle stoviglie la presi ne strappai i legami e spingevo il tappo per farlo saltare non saltò gabriel si mise a ridere e mormorò cattivo presagio spinsi con il pollice la testa gonfia del sughero la inclinai a destra la inclinai a sinistra ma in vano ed un tratto spezzai il tappo insieme alla bottiglia gabriel sospirò povero roger prese un cavatappi che fissai nella parte rimasta del collo della bottiglia mi fu impossibile in seguito levare il turacciolo dovetti richiamare prosper mia moglie rideva di cuore ripetendo bene vedo che posso contare su di te poiché sposare una vedova non richiede tutte le cerimonie materne necessarie per una fanciulla gabriel passò tranquillamente nella sua camera dicendomi fuma il sigaro per un quarto d'ora quando la raggiunsi mancavo di fiducia in me stesso lo confesso mi sentivo nervoso turbato a disagio presi il mio posto di marito lei non disse nulla mi guardava con un sorriso sulle labbra con la voglia palese di burlarsi di me quell'ironia in un simile momento finì per sconcertarmi del tutto e lo confesso mi spezzò braccia e gambe quando gabriel si accorse del mio imbarazzo non fece nulla per rassicurarmi anzi al contrario mi domandò con aria indifferente tutti i giorni è così non potei trattenermi dal rispondere senti sei insopportabile lei allora si mise a ridere ma a ridere in una maniera smoderata indicibile esasperante è vero pertanto che faceva una bruttissima figura e che doveva avere un'aria assai sciocca ogni tanto tra due accessi folli di allegria gabriel diceva a mezzo soffocata dall'ilarità via coraggio un po di energia mio mio povero amico poi si rimetteva a ridere tanto rumorosamente che sembrava urlasse alla fine mi sentii così nervoso così furibondo contro me stesso e contro di lei che compresi di essere sul punto di percuoterla se non fossi andato via saltai dal letto mi vestii con rabbia senza dire una parola lei si era ad un tratto calmata e comprendendo che ero adirato chiese che cosa fai dove vai non risposi e discesi nella via avevo voglia di uccidere qualcuno di vendicarmi e di fare qualche pazzia andavo dritto a grandi passi e ad un tratto il pensiero di andare a trovare qualche donnina allegra mi sorse nella mente e chissà poteva essere una prova un esperimento forse un eccitamento in tutti i casi sarebbe stata una vendetta e se mai dovevo essere ingannato da mia moglie lei lo sarebbe stata prima da me non esitai conosco una casa d'amore non molto lontano da casa mia e vi corsi entrandovi come fanno coloro che si gettano nell'acqua per vedere se sanno ancora nuotare nuotai e molto bene rimasila lungamente assaporando quella vendetta segreta e raffinata poi mi trovai di nuovo nella strada in quell'ora fresca in cui la notte sta per finire mi sentivo ora calmo e sicuro di me contento tranquillo e pronto ancora mi sembrava per qualche prudezza rincasai allora con lentezza e aprì pian piano la porta della mia camera gabrielle leggeva col gomito sul guanciale alzo al capo e chiese preoccupata sei qui che cosa avevi non risposi mi spogliai con sicurezza e ripresi da padrone trionfante il posto che avevo abbandonato da fuggiasco lei ne fu stupita e rimase convinta che avesse impiegato qualche segreto misterioso ed ora ad ogni proposito parla del sistema di roger come parlerebbe di un procedimento scientifico infallibile ma purtroppo sono ormai trascorsi dieci anni da quel giorno ed oggi la stessa prova non avrebbe molte probabilità di riuscita per me almeno se hai qualche amico che tema le emozioni di una notte di nozze suggerisci il mio stratagemma assicurandolo che dai 20 ai 35 anni non esiste modo migliore per sciogliere nodi come avrebbe detto il sire di Blanton